Dopo il triplo dispiacere concentrato nell'arco di tre giorni, dettato dal mancato sconto del TNAS sulla penalizzazione, dal K.O. sul campo di Cagliari e dall'arresto di Masiello, la società talantina guarda avanti con rinnovata fiducia e per il prossimo match interno di sabato pomeriggio contro il Siena chiama raccolta i tifosi invogliandoli con prezzi speciali per non dire stracciati. Con 5 euro ad esempio si può accedere in una delle due curve, con 13 sedersi sotto la copertura della tribuna centrale Kreberg. Non solo agli stessi prezzi, ma per coloro che acquisteranno il biglietto per il Siena sarà possibile anche assistere alla gara interna successiva contro il Chievo. In pratica con 10 euro complessivi si può andare in curva ad ambedue le gare, tra l'altro fondamentali per la salvezza. Sicuramente i tifosi sono una marcia in più. Quando dicono che i tifosi sono il dodicesimo uomo in campo è vero perché quando giochi in casa e senti il pubblico che ti trascina hai una marcia in più, hai quella forza superiore che magari non senti di avere dentro ma che il tifoso ti può dare. Sulle ali dell'entusiasmo si possono fare cose che magari non pensi nemmeno di poter fare e quindi noi speriamo e siamo convinti che sabato avremo una grossa mano dai nostri tifosi. Si continua a ripetere, siamo vicini a un traguardo importante, stiamo soffrendo da luglio per cercare di arrivare a questo grande obiettivo con questa penalizzazione. È un grande obiettivo per tutti, i tifosi lo sanno e quindi io sono convinto che sabato saranno sempre tanti allo stadio ad aiutarci a cantare e a trascinarci verso un risultato che probabilmente qualcuno non si aspettava ma passando giornate dopo giornate si è arrivati alla convinzione che questa squadra potesse arrivare a raggiungere un obiettivo importante che è quello della salvezza. Una spinta in più dunque quella che darà il pubblico bergamasco ad una squadra che continua a fare i conti con l'infermeria. Dei cinque infortunati di Cagliari, soltanto Bellini al momento è sicuramente recuperato, per Denisi invece permangono perplessità. Molto più probabile che il Tanche possa tornare in campo nella partita successiva contro il suo ex Napoli. Buone notizie anche per Manfredini, il cui naso dopo lo scontro di gioco a Cagliari non ha riportato fratture e che dunque si sta allenando regolarmente.